Ben ritrovati da Simone Nardone a un nuovo appuntamento con il giornale radiolocale. Dopo le piogge dell'ultima ondata di maltempo è tornato a farsi vivo nel sud pontino l'annoso problema della torbidità dell'acqua. Puntuale come un orologio svizzero, quasi tutti i comuni del sud pontino hanno dovuto emettere le solite ordinanze per informare la cittadinanza del fenomeno e consigliare il non utilizzo dell'acqua che esce dai rubinetti a scopo potabile. Un vero e proprio problema che con questo periodo caratterizzato da grande e bassa pressione sta vedendo i cittadini del Golfo di Gaeta dover spesso rifornirsi ai camion cisterna messi a disposizione da Acqua Latina. Arriva anche a Terracina la più importante campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della rete rivolte ai minori in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione nell'ambito del progetto Generazioni Connesse. La manifestazione fa tappa proprio a Terracina giovedì 9 dicembre in via Marconi nell'area antistante l'esercizio commerciale Lammiraglio ad accogliere gli studenti a partire dalle 8.30 sarà proprio la Polizia Postale di Latina. Fondi e lo Zecchino d'Oro 2021 con la presenza della piccola Irene che insieme al suo compagno di avventura Giuseppe ha cantato il brano e il reggaetonno che nella giornata di lunedì la pagina ufficiale dello Zecchino d'Oro ha incoronato come canzone più cantata e condivisa sui social tra quelle in gara nella 64esima edizione del concorso Canoro. Ascoltiamo insieme un estratto del brano che si trova su tutte le principali piattaforme musicali come ad esempio Spotify e YouTube. Tante personalità legate alle istituzioni del territorio si sono riunite lunedì 6 dicembre a Sperlonga quando nel centro storico presso l'auditorium comunale si è svolta la presentazione del nuovo sportello EBTL ovvero Ente Bilaterale Turismo del Lazio. Non solo le istituzioni all'evento ma anche le parti sociali territoriali, i sindacati e le rappresentanze delle attività del settore turismo e della ristorazione nonché il prefetto di Latina Maurizio Falco. Videosorveglianza, il comune di Cellule vuole implementarla, per questo punta un miglioramento dell'occhio vigile delle videocamere attraverso un investimento di 250.000 euro. Si tratta di un progetto denominato Cellule Città Sicura, portato avanti dall'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Guido Di Leone. Il progetto ha già trovato l'ok da parte della prefettura di Caserta, ora è atteso il finanziamento da parte del Ministero dell'Interno che avrà anche il compito di redarre la graduatoria. Questa era la nostra ultima notizia, un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del GR Locale.